Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Da come ho detto dal titolo, oggi ho fatto un video un po' particolare, quindi faremo colazione e pranzo insieme al McDonald's, perché visto che comunque oggi sarò al centro commerciale, che è 30 novembre, stavo c'entro in agosto, 30 novembre con mia sorella, ho deciso di fare un po' questo video un po' più diverso. All'inizio volevo fare un vlog, però ho deciso di oggi di concentrarmi a fare questo video qua, poi domani che è domenica, se tutto va bene, farò un vlog e vi farò vedere gli acquistini, perché io sono stata pure ieri al centro commerciale, però per altri motivi, infatti ho comprato solo una filippa e poi vabbè, domani vi farò vedere. Oggi non lo so perché principalmente vado al centro commerciale, perché lì sta trovando l'usciane e quindi vado a fare un po' di spesa per i video natalisti, ma vabbè, queste cose qua. Poi mia sorella deve fare shopping per lei. Ho deciso di fare questa intro, perché comunque là non so se riuscirò comunque, era un po' difficile darvi il buongiorno lì, me ne ho preferito darvi il buongiorno da casa. Sono le 9 e mezza, io sto morendo letteralmente di fame, cioè sto morendo di fame, perché praticamente l'ultimo mio passo risale ieri alle 7 come post-workout. Ieri ho camminato tantissimo, ho fatto più di 20.000 passi, e sicuramente anche oggi, perché solo al centro commerciale farò sui 10.000-11.000 passi. Questa è proprio una cosa standard, ogni volta che vado i passi sono sempre gli stessi. Poi comunque anche stasera camminerò, voi sapete che nel fine settimana cammino tantissimo, già nell'arco di tutti gli altri giorni io cammino tantissimo, però nel fine settimana ancora di più. Quindi questo per me non sarà uno sgarro, tutto quello che vedrete, perché comunque penso che farò questi due passi, poi uno proprio stasera prima di uscire, io quindi farò questi tre pasti. E nulla, volevo provare un po' di cose, quindi ho deciso, vabbè, proviamole insieme. E niente, quindi questa cosa, volevo aprire questa parentesi, quindi adesso io finisco di prepararmi, e noi ci vediamo direttamente al centro commerciale con la colazione. Ma ora non vedo l'ora di andare a me a caffè. Ho troppa fame, troppa 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 fame, il mio stomaco brontola. Quindi adesso finisco di riordinare, tra un'oretta sicuramente staremo al centro commerciale. Eccoci qui a me qui da un altro, scusate un minuto, oci ma non ci va di casa, vi ho fatto vedere già la colazione, ovviamente io ho preso muffin, un muffin, un muffin, un assasso cioccolato, e quel fornetto al cioccolato, un tavolo cero, un tavolo cero, guardate quanto sono qui, un tavolo cero, cioè adoro, ma non si spera di perché non sono tutti tirati, spero che mi sentite da un tavolo cero, e spero bene che si sente, un tavolo cero, è obbligatore, io forse chiediamo una macchina, le crudola, la facciamo dire, ecco qua. Dobbiamo provare a fare, come è buono, di solito ce l'hanno sempre le tazzine, qui c'è stavolta proprio il bicchiere, un po' freddo, non ce l'abbiamo riscaldata, ragazzi, sta bene allora qua non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.